Pelate un cetriolo, tagliatelo in quattro parti e sistematelo in uno scolapasta. Spolveratelo con due cucchiai di sale grosso e lasciatelo macerare per 30 minuti. Poi rimuovete il sale in eccesso, strizzatelo bene tra le mani per eliminare l'acqua di vegetazione e tritatelo fine. Raccogliete in una terrina 500 grammi di yogurt naturale cremoso, il cetriolo, una manciata di foglie di menta e uno spicchio d'aglio tritati e mescolate molto bene con un cucchiaio di legno. Incorporate, sempre mescolando, 250 millilitri di acqua fredda. Aggiustate di sale, coprite e lasciate riposare in frigorifero per due ore. Servite la zuppa fredda, cosparsa di foglioline di menta fresca accompagnata da pane arabo. Servite la zuppa fredda, cosp wall Prepo. Servite la zuppa fredda, cosp Rao dentro. Servite la zuppa fredda, 250 millilitri diikatut Ramana Pedro пос mandato azensi te cuotop. Servite la zuppa fredda, cosp electrons tutti radossi te cuotop. Servite la zuppa fredda, cosp Communications Abandonedale da Ruizio Mku. Servite la zuppa fredda, cospagna, anticipato che si pregiò suこんな lunguità ap Abi